Ma domani, quando abbiamo i soldi, non li portiamo? Te l'ho già detto, a Barbados. In Spagna? Ma che in Spagna? A Barbados, ai Caraibi, dai. Lory, quando torniamo a Roma ti regalo un mappamundo, eh. Vabbè, ho capito, basta che non li portiamo a Panama. No, no, se no. Di che c'è? E comunque a sta Barbados ci vengo pure io. La firma deve essere congiunta. Ma perché? Non ti fidi? No, mo' so' giovane, so' buona. Ma tra dieci anni, quindici, magari crollo, tu mi molli e io mi ritrovo col culo per terra. Ma dai, ma fra quindici anni, beato chi c'ha un occhio, dai. Tu ce l'hai lungo l'occhio e si è un paracolota niente. No, no, la firma deve essere congiunta.